Mi chiamo Melinda Gordon Mi sono appena sposata e abito in una piccola città Ho aperto un negozio di antiquariato Sono una persona come voi Tranne che per il fatto che fin da bambina Ho scoperto di poter parlare con i morti Nonna li chiamava spiriti intrappolati sulla terra Coloro non ancora passati oltre Perché hanno dei conti in sospeso con i vivi E vengono a chiedermi aiuto Per raccontarvi la mia storia Devo raccontarvi la loro